Un McDonald's e due supermercati sorgeranno presto nella frazione di Colleranesco a Giulianova dopo che il Comune ha approvato il piano di lottizzazione dell'area. Il progetto non prevede modifica al piano regolatore e ha ricevuto il via libera da parte della provincia della soprintendenza. L'area non è soggetta a vincoli paesaggistici e sarà suddivisa in tre subcomparti. Sì, lì addirittura c'è grosso fermento di interesse perché oltre al McDonald's nasceranno altre due attività commerciali e anche quelle porteranno posti di lavoro. Si parla di un indotto solo in quella zona di 100 posti di lavoro. Comprendete bene che per un territorio come il nostro è importantissimo e fondamentale. Stiamo diventando il centro più attrattivo della costa teramana e anche frutto di una serie di interventi e di lavori che la mia amministrazione ma soprattutto i miei assessori, i miei consiglieri, i miei dirigenti hanno portato avanti nel corso degli ultimi cinque anni. Una società immobiliare realizzerà un parcheggio pubblico adecente alla struttura commerciale acquisendo un'area del Comune. Il Comune inoltre ha ottenuto dall'ANAS una porzione di strada per facilitare l'accesso al parcheggio e le attività che nasceranno porteranno benefici alla viabilità della zona e anche la futura uscita presente nel progetto di realizzazione del quarto lotto della Teramo Mare. Sì, ci sono buone notizie anche lì. Ho incontrato il ministro Salvini che mi garantisce che nell'arco di due anni potremmo vedere sia i lavori appaltati che l'inizio e la realizzazione dei lavori. Quindi speriamo che nel 2024 sia l'anno buono per iniziare definitivamente il quarto lotto della Teramo Mare per poi vederlo completato tra il 2026 e il 2027. Anche questo è un'opera strategica che porterà non solo respiro all'area industriale ma porterà a far sì che tutte le persone che arrivano dall'Aquila o da Roma possano direttamente arrivare a Giulianova senza doversi purtroppo fermare in quell'imbuto lì a Mociano che porta degli evidenti ritorni economici al Comune di Mociano un po' meno al Comune di Giulianova. Grazie.